Buonasera, siamo qua al Bar One con l'amico qua di Motta, Lucio, che ci deluciderà in merito al paese e agli esercizi che ci sono sul paese. Allora, noi siamo un paese in collina, 600 metri d'altezza, 850 circa abitanti, è un paese abbastanza al clima tranquillo, nulla. E' un calmo, socievole e accogliente e abbiamo, campiamo diciamo, agricoltura principalmente, tradizioni soppressate, vino e uoio, il top. E poi c'è il Bar One naturalmente che è un bel di specialità. Specialità qua, sul ramo alimentare, vabbè, mi ripeto, il clima è ideale per olio e vino soprattutto. No, tu, io, sì. E io qua faccio tutto Casareccio, dallo spezzatino, alle parmigiane, alle melanzane ripiene, ai panzerotti, tutto fatto. Tutti i prezzi economici? Sì, sì, certo, certo, soprattutto. Tutti i contari possono venire? Tutti, tutti. Anche 10 minuti di preavviso è meglio perché siamo... E come è il numero di telefono? Allora, 335-8139-375. E mi trovate anche su Facebook e tutti i social network, ormai. E la... abbiamo la Wi-Fi libera, quindi abbiamo anche un servizio in più. E niente, cortesia e qualità è il nostro obiettivo principale come attività. Allora, auguri che tanti cittadini ti vengono a tolto. Ok, e il nostro motto è Bar One e sei protagonista. Ok, grazie. Grazie a tutti, ciao.